L'immagine è giusta, sono loro che amano ballare a testa in giù. Sono i breakers, i ballerini di breakdance, arrivano da tutta Europa e si sono dati appuntamento a Pesaro, a Villa Caprile, per una due giorni di gare e sfide a ritmo di hip hop. L'olandese Kat Nais e l'italiano Mr. Oxrock, i DJ che hanno studiato la colonna sonora. A selezionare i migliori naturalmente non poteva mancare anche un giurato direttamente da New York, città dove la breakdance è nata verso la fine degli anni 70, per arrivare poi negli anni 80 in Europa e in Italia. La storia più accreditata dice che sia nata come una mimata sfida tra le gang del quartiere del Bronx, un modo per mediare le dispute territoriali. Di certo oggi è una disciplina, un ballo acrobatico davvero trascinante. Tutti bravissimi ragazzi, ma per la cronaca il primo premio nelle crew battle, nelle gare a squadre, è andato ai danesi del gruppo Net Effect, che hanno battuto gli italiani di Ortona, vincitori dello scorso anno. Mentre nella sfida 2, primo premio per gli italiani, tra cui c'è anche un giovanissimo breakers siciliano di appena 14 anni.